bene bene salve a tutti vincent warlike e benvenuti nel mio canale andiamo avanti con il nidale allora guardiamo un po da un'occhiata perché ho lasciato questo insediamento forse un po troppo da solo allora portiamoci un po di gente facciamo questo che mettiamo qua qua ci mettiamo il giovane no non più giovane wither gild wither gild wither gild wither gild wither gild ti do manipolo di uomini per andare a siamo privi di fanterie ragazzi siamo privi di fanterie allora ti do un arciere sicuramente ti do qualche riverman ti do anche questo via ok allora stiamo reclutando delle fanterie ma ne vorrei reclutare anche di più perché vedo che di fanterie siamo proprio scarsi e andiamo avanti a reclutare anzi teniamolo così con quanti turni disponibile tra quattro turni 13 questi va bene allora aspetteremo ok qui che abbiamo la nostra balista la stiamo portando la perché vogliamo andare a conquistare il castello allora questo punto di qua non dovrebbero passare più qui siamo al completo quindi qui direi di portare giù ma di questa gente sperando che non arrivino con le navi allora guardiamo un po qua riuniamo un po facciamo un po di pulizia qua se potessimo fare il retrain di questi mercenari sarebbe fantastico visto che hanno tre baffi d'argento ragazzi però chissà allora direi che possiamo passare il turno ecco la eccolo qua allora un matrimonio eccolo qua mannaggia la miseria mannaggia allora non siamo pronti per attaccare qua perderemo l'insediamento la miseria mannaggia la miseria mannaggia la miseria mannaggia allora facciamo così i mercenari non ce n'è allora ti do una cavalleria perché ne hai bisogno ok vai attaccare qua relazioni col mordor sono veramente povere ok sono pronti i nostri nuovi elementi bene allora guardiamo un po aspettiamo poi li muoviamo tutti insieme alla fine fine allora qua la nostra balista queste altre unità le portiamo qua attacchiamo questi questo qua beh direi di fare in automatico scacciamoli si rinfugiono nel piccolo castello tre turni vabbè non facciamo neanche le scale aspetteremo tre turni lasciamo dentro qua un generale può uscire di qua mannaggia 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 ma che che errori che faccio va bene dai ok passiamo nuovamente il turno eh ci attacca logicamente eh 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 va bene va una risoluzione automatica per te carissimo rune lo so che va bene va bene va bene ci sta allora cosa abbiamo bloccare il porto e vabbè ma io non ce l'ho cavolo il pò c'è una città qua ok allora mettiamo andiamo a riprenderci il nostro paesino ragazzi allora necessita di pg anche per l'ordine pubblico lo bassiamo un po' se non scoppiano le rivolte ok allora pronti allora portiamo in battaglia beh io direi di portare un po' anche il nostro erese di passione aspetta fammi vedere gli arcieri ce ne sono facciamo una cavalleria vi aspettiamo un altro turno guardiamo un po' allora rivolte questi sono pronti costruzione pronta la missione fine turno invasione chiamata o sghiglia mamma mia uh un'invasione di Mordor ragazzi stiamo attenti stiamo attenti anche noi viviamo proprio vicino a Mordor ok allora 7000 abbiamo dei soldi da spendere possiamo costruire qualcosa qui facciamo le baracca scusa c'è da rovanion graduati dei lancieri o dei lancieri più forti allora quanti turni 6 e 6 4500 ecco costa un po' meno questo via aumentiamo le baracca dopo le cavallerie le faremo passiamo nuovamente il turno è la balista che sta raggiungendo Kugavod o Kugavod oddio che è ci sono dei suoni inquietanti cosa è successo allora pronti allora facciamo attenzione ragazzi attenzione va bene il nostro esercitone direi che inizia ad essere abbastanza folto iniziamo a spostarci via intanto spaziamo via dalla strada questi maledetti briganti ok vai mettiti qua nelle schiere del nostro oh sono messi un po' maluccio ce la possiamo fare attacchiamo il generale Broda andiamo in battaglia allora eccolo qua il nostro piccolo schieramento iniziamo la battaglia loro si trovano qua dall'altra parte come è logico e come accade sempre abbiamo visto tante volte che non sono mai lì va bene andiamo avanti velocizziamoci un po' così l'a iniziamo la battaglia Allora, ralentiamo il tempo Ok Cerchiamo di andare a disturbare I suoi arcieri a cavallo Ottimo Iniziamo a tirare un bel po' di frecce Ottimo Attenzione Che arriva il generale La età che qua Tiriamoli via qua Un attimo perché Qui sono questi balcord Ok Dobbiamo far combattere anche il generale Ok Scappa Scappa quel codardo È rimasto solo lui Ottimo Allora un'altra Ok questi qua ragazzi Vai Attacchiamo questi qua alle spalle Con la cavalleria Vai Vai ammazza qua il generale Nooo Un nostro generale morto Una nobile dè Eh no Il nostro generale Peccato Il primo generale che mi muore Pazienza Pazienza Morto un generale Se ne fa un altro Prendi tu il comando Bardian Prendete qua il generale Prendete qua il generale nemico È importante Ammazzatelo Se non continuare questo We will smash the enemy Vai Dale Swordmaster Ammazzatelo Ammazzate il generale nemico È importantissimo Eccolo Eccolo Che cade Finalmente Questo potrebbe segnare La nostra vittoria Ok Vittoria Molto sofferta Andiamo avanti Ok Allora Esecuzione E poi direi Di andare A conquistarlo Andiamo E quanti sono 600 Allora 151 Di quelli Ah bisogna Che andiamo in battaglia C'è poco da fare Ok Iniziamo Questa piccola battaglia Comunque È anche questa Molto difficile Mi sembra Andiamo Andiamo un po' avanti Così possiamo andare Al tiro Dobbiamo Massacrarli Di frecce Dobbiamo tirare Tutte le frecce Che abbiamo Sicuramente Allora Avviciniamoci Ancora Un po' Io voglio sapere Da dove veniva fuori Tutta sta gente qua Che erano in 2 Adesso sono in 10 Va bene Allora Andiamo a tirare Voi già ci arrivate Ottimo Il nostro generale Ci arriva Bene Mettiamo qua Le fanterie Dai però ragazzi Che erano in 10 aria so che dicemiamo questa qua che è la fanteria più numerosa vabbè anche gli altri però non è che li vestono di bianco questi perché sono delle pecore dai più che decimati ottimo continuiamo il tiro qua con gli arcieri dalla lunga distanza cosa fanno? tentano un attacco? ah no scappate facciamo un piccolo tiro di frecce infuocate teniamoli belli al caldo i rune ok cercano di ritornare alla ribalta cerchiamoli di distruggerli prima che arrivino contro di noi ok dai su ragazzi ok andiamo qua di qua con la cavalleria pronti ad attaccare che abbiamo qua di forti mi sembra che non vi sia rimasto nessun altro altra che questi già vellottisti forse c'è uno fanteria pesante ma poco e niente continuiamo il tiro via pioggia di fuoco su questi che sono ancora intatti integri via pioggia di fuoco su questi questo sasso l'onore che vi dico di togliervi di lì niente proprio non volete muovervi mi piace stare lì vicino al sasso no 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 voglio farmi vedere tirate qua ok voglio arrivare almeno a consumare tutte le frecce acceleriamo un pochino guardiamo un po' 59 di questi 40 12 12 ok stiamo decimando per benino ok allora tiriamo tiriamo un po la in mezzo qua consumiamo tutte le frecce attacchiamoli prima che ci tirano dei giavellotti in faccia ok fermiamo un attimo il tiro visto che siamo già abbastanza decimati altrimenti entriamo con la cavalleria a eliminare un po di gente i nostri 18 cavalieri ottimo mandiamo anche questi lanceri mercenari pochi ma buoni via facciamo più cariche piuttosto che stare fermi lì abbiamo ancora un po di frecce tiriamole portiamo il generale qua a dare supporto rimane il generale è abandone gli altri ok il nostro portabandiere ci hanno ammazzato questi maledetti cavalleria chi è questo? ah il capitano ottimo ottimo vai ammazzate il generale qua ragazzi dai muori cattivo una grande vittoria vittoria eroica grande molto bene ottimo andiamo avanti riprendiamo la piccola oasi di Ruoner occupiamola ok guardiamo un po' non possiamo però fare nulla qua il fatto è che siamo messi anche molto ma molto male poveracci i nostri uomini allora ho guadagnato la sciabola di Rune il nostro giovanissimo Irkwine come si chiamala come si chiamala diavolo si chiama diavolo si chiama ok bravo vabbè è morto quell'altro purtroppo pazienza Irkwine ok più due al comando una nobile morte di Wither Gild eh pazienza lo ricorderemo allora qui intanto si prospetta un'altra piccola battaglia guardiamo un po' qua che guardiamo sempre che non arrivino altre genti ok qui ci sembra la via è sicura la via è sicura allora guardiamo un po' qui dovrei aspettare passiamo un altro turno poi guardiamo un po' guardiamo un po' va bene abbiamo scacciati scacciati ma dove vanno rispetto in battle rispetto in battle allora in battle il battello è ancora arrivato allora qui cosa facciamo guardiamo un po' non abbiamo fanterie ragazzi non abbiamo fanterie prendiamole subito allora spaziamo via sta merdaccia qua dal ponte vai muori non vedevo la mappa ok ragazzi corriamo subito dal nostro imperio anzi qui c'è un altro intanto passiamo di là ok allora intanto stiamo reclutando un altro un arciere vai un'altra fanteria stiamo facendo le strade la ballista l'abbiamo fatta ok direi di fare un'altra ballista una cavalleria e qui direi di 12.000 ma chi è sto giovanotto qua arving dai arving tu sei pronto per la battaglia allora due generali qui uno ce l'abbiamo qua allora arving sei giovane dai vieni giù a combattere mettiti qua così dopo prendi gli altri uomini relazioni terribili col mordor ok allora vogliamo un po' qua direi direi ma non lo so dai fammi il retrain di qualcuno 135 oh bisogna che mandiamo qua della gente ragazzi allora reclutiamo qua giù perché se no mi servono delle fanterie più integre e qui dopo andremo a tirare via quelle più danneggiate tipo questa qua con sei cioè non servono a nulla questo possiamo metterlo qua ok ok va bene ragazzi concludo qua quest'episodio ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.